La manovra economica è stata predisposta in un frangente estremamente complicato, nei quali l'incertezza legata ai recenti avvenimenti in Medio Oriente si aggiunge alle difficoltà che già da tempo caratterizzano il contesto economico e geopolitico, ma è stato fatto il meglio possibile. A parlare è il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione. In un quadro complesso, la manovra si è concentrata sulle difficoltà del presente, privilegiando il sostegno alle famiglie, anche per compensare, per quanto possibile, la perdita di potere di acquisto subita fino ad ora. L'obiettivo di crescita per l'anno in corso, dello 0,8%, potrebbe subire una correzione a ribasso, anche se contenuta. Gli ordini del debito sono condizionati anche dal merito di credito del nostro Paese, che a sua volta è legato alla capacità di crescita della nostra economia e all'adozione di politiche sostenibili e responsabili. Su questo abbiamo dato un segnale preciso, che gli investitori sembrano aver apprezzato. Il disavanzo pubblico è infatti previsto scendere al di sotto della solida del 3% dentro il 2026, per rispettare non solo i vincoli europei, ma anche per realizzare il necessario consolidamento dello stock del debito.